qui alla Palaborrelli si sfidano le formazioni del Minturno e città di Minturno Marina torna quindi il derby del Sud Pontino dopo il confronto giocato in avvio di Stagioni che vide l'avversario Riso, palla messa in mezzo per Stanziale, c'è il vantaggio Stanziale segna e per da adesso fa recuperare il Minturno e c'è il raddoppio a liberarsi, bella la triangolazione, finisce a terra e c'è contro il portiere il tiro sotto la traversa e il Minturno allunga nel risultato 3 a 0 prende la distanza, due uomini per Petrella Riso e Colacicco Zottola, il tiro e la rete, giustiziere in questa circostanza di Stasio, l'entro passaggio all'indiero e c'è il gol da parte di Moreira la fiondata dopo appena... Zottola, calcio di punizione, in invitante per lui e per il Minturno Marina nel tiro, sicuro ancora sul calcio di punizione, sempre giustiziere ancora Riso, Minturno, palla leggermente che si allunga il diagonale finisce in rete, bella esecuzione, ancora corrente fallo su di lui e c'è il quinto per il Minturno che a questo punto vede annullarsi il tiro e c'è il gol di Ferrara il Minturno ancora su un'azione da fermo adesso è da Silva Moreira fa spazio per lui Riso la palla messa in mezzo e il gol di Moreira il Minturno allunga il risultato portandosi sul 6-3 qui si 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 si